Tag è le parole chiave dell'innovazione e partiamo dalla prima, tag. Tag significa firma, significa etichetta ed è arriva, sì c'è un modo per interpretarla all'interno della cultura informatica, per cui tag è quel dispositivo etichetta che viene dato all'elemento di Word, alcuni elementi che riguardano la concatenazione dell'informazione anche in un ipertesto, il tagging, ma mi interessa di più agganciarlo ad un'altra definizione, la tag dei graffiti, la firma. Il graffito territorializza, il graffito è tribale, il graffito è un modo per esercitare una scrittura, una graficizzazione, perché è qualcosa che è un po' tra la scrittura e il disegno, l'affresco, il murales, ma è scrittura, tu scrivi ed agisci, mi viene in mente l'action painting, avete presente Pollock che dipinge muovendosi nello spazio, spargendo colore. Ecco, il mondo dei graffiti new yorkesi, dei graffiti americani, dei primissimi anni 80, hanno sbagliato a spallate interessanti, tutta la cultura dell'hipope deriva da questo mondo dei graffiti e la tag erano le firme di queste scritture, azione nelle metropoli.